Il 4 marzo il sindaco di piazza scriveva su Facebook Dai che manca poco la riapertura della galleria di piazza Foraggi, aggiungiamo noi. La testata online Trieste prima, seguendo il posto del sindaco, ha anche aggiunto una sua dichiarazione, che riferiva all'avanzamento dei lavori a circa l'85% del suo completamento. Una scadenza di fine lavori oggi non è definita. Dal comune si tengono ben cauti nell'avanzare una data precisa, poiché in corso d'opera è stato già appurato che l'imprevisto è dietro l'angolo. Di fatto però gli interventi nella galleria, per come questa si è presentata stamattina all'ingresso di via Salata, sono effettivamente a buon punto. I lavori in questi giorni sono focalizzati sulla copertura della galleria, non po' i materiali che saranno la parte estetica e visibile, ma proprio il reperimento dei giusti materiali ha fatto perdere qualche giorno la ditta, poiché si tratta di prodotti che oggi sono difficili da trovare sul mercato. Terminata questa fase, il grosso è completato e il traguardo sembrerà sempre più vicino. Dalla giunta comunale è stato comunicato che la prossima settimana sindaco e assessori saranno sul posto per un nuovo sopralluogo volto a definire il da farsi. Si ipotizza inoltre che terminati i lavori di copertura, si potrebbe anche ragionare su un'apertura della galleria al transito veicolare con definizione degli ultimi interventi, visto che l'asfaltatura sembra sia ultimata, chiudendo la galleria solo di notte, momento durante il quale i lavori andranno avanti. Ma è solo un'ipotesi che potrebbe trovare conferma proprio durante il punto della situazione del sindaco la prossima settimana.